Qui siamo a Piazza Armerina nel Palazzo Trigona, un edificio che ha fatto la storia della città per tanto tempo disabitato, abbandonato e che la regione ha fatto diventare museo. Museo archeologico, museo della civiltà contadina, un museo che racconta la crescita urbanistica e culturale di Piazza Armerina. Sono venuto a rendermi conto dei lavori di allestimento, presto diventerà realtà e voi immaginate i mosaici di Villa del Casale. Il museo, la buona cucina, l'accoglienza, il patrimonio religioso, artistico monumentale, la vicinanza di Aidone con la sua Venere di Morgantina, la vicinanza di Caltagirone, la vicinanza di Enna. Possiamo creare un vero e proprio circuito. Siamo passati dalle parole ai fatti, perché sulla cultura il mio governo sta investendo e perché con la cultura si mangia, sì, si mangia. Fa mangiare tantissima gente che vive e può continuare a vivere di turismo. Grazie a tutti.